Paralizzata in come alla 35esima settimana di gravidanza è riuscita a portare a termine la gravidanza grazie alle cure ricevute al Policlinico di Bari. La protagonista è una 23enne di Taranto era stata trovata dai familiari svenuta sul pavimento della sua abitazione a causa della rottura di una malformazione arterovenosa cerebrale. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasferita al nosocomio del capoluogo pugliese dove ha dato alla luce il suo bambino. Il piccolo sta bene la mamma faticosamente ma con costanza sta recuperando la sua funzionalità cognitiva e motoria come ha spiegato la professoressa Marisa Megna che dirige il reparto. La paziente giovane ha ampie possibilità di recupero auspica Megna.